Mi ha perduto il mio caro S4 su PS6 Ciao raga Ieri nel bullying eravamo su PS4 Che mi ero scordato di dirvelo Andiamo guardate un po' il nuovo simbolino L'ha fatto qualcuno della Crivo e ha impostato questo per ora Che c'è da fare qua? Oh al momento ce la faccio senza fare il trick No raga c'è solo un problema Mi finisce la resistenza a me eh Oh Toie Grandissimo sui Chi è primo? Guardalo Andiamo 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 Belli veloci eh No la resistenza mi sta per finire raga Se finisce va due all'ora dopo eh No Non le posso fare carico i BMX con rango basso eh Comunque ho fatto un bel po' di gare Sto rango 38 E dovrei stare tipo 800.000 dollari Perché ho fatto pure tante tante attività Ok Ok E la miseria che figata qui Un altro tubo raga Antico però questo è eh Allora Andiamo Via 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 Entriamo qua dentro Vai sui Vai 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 Dopo ci giochiamo un'altra gara parkour Però l'ho scaricata a statte eh Questa la volevo giocare antica Qua che c'è da fare Oh Olè Perfetto Andiamo 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 Eccolo qui il bel checkpoint Allora qua Salta Aspettate eh Oh Dai salta sui Ok Raga ma Su Xbox One Sembra che salta Meglio il giocatore eh Non lo so Tipo su PS3 c'ha quel ritardo Che quando salta salta dopo Invece qua no Sembrerebbe di no Non lo so raga Aspettate eh Vediamo se riusciamo a saltare tutti questi Senza mai fermarci Uno Due Tre Quattro E cinque Vedete non lo so se su PS3 si fa uguale eh Su PS4 Mannaggia me raga Con tutte queste console mi sto a confondere Non so manco più dove sto a giocare Via 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 andiamo Il traguardo sta giù Dove sta? Dove si trova? Tutto in silenzio Eccolo là Eccolo là Dai 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 sui Impenna No Come non ci sono arrivato No raga non ci posso credere Via 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 andiamo Scendiamo con un bel trick eh Si Un front flip raga Però non so quanto ci conviene eh No non ci conviene invece Dove stava? Ok Il traguardo è lì Vedete? Si vede a malapena Ok Siamo dritti Un po' più indietro Un po' più avanti Eccola qui la prima posizione Prossima gara Ok Nuova gara parkour Sempre con la BF400 Raga Vi giuro che le scarico Però non so perché Nella descrizione c'è scritto sempre BF400 Mai Oh mio dio Oh Oh mio dio raga Non so cos'è successo eh Andiamo No L'unico trollato io Va bene così Allora Vai sui Concentrati No non sono l'unico Pure Cry GT è stato trollato Perfetto Ok Andiamo 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 Belli veloci Dove bisogna andare? Di qua Vai 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 Ok Bisogna scendere qua giù Perfetto così Adesso Adesso raga Ho preso il check Ma non so come eh Meno male ho sentito solo rumore eh Vi giuro Ok Vai Vai Bellissimo questo trial Perfetto Allora qua come giriamo? Così? Sì Perfetto così Checkpoint preso Andiamo 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 Belli veloci Le trappole No no Che è successo raga? C'era qualcuno davanti a me però qua è sparito Ok Vai Perfetto così Vai vai sui Bello veloce eh Allora qua Qua raga aspettiamo E' inutile andare ai lati Vai 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 Perfetto Vai sui Bello veloce Ok Qua facciamo pure attenzione Vai 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 Proseguiamo raga Guardate che spettacolo qua Bellissimo proprio questa gara eh Salta Salta No Devi saltare Ok Eccolo qui il bel checkpoint Adesso C'è da fare un bel wall right No 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 Ok ok Ce l'abbiamo fatta raga Non so come Però ce la stiamo facendo eh Su 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 Ok Un altro bel checkpoint preso Adesso Adesso raga glide Vai 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 Continua così Ok No No raga ho fatto bene credo eh Andiamo Eccolo qui il bel checkpoint E adesso E' lì il check Bisogna fare tipo il trick Nel tumbo Aspettate eh Vediamo un po' Se è così Vai Sì Regà Bellissima proprio questa gara eh Andiamo 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 Vai sui Bello veloce Adesso che c'è da fare un wall right Vai andiamo Questa è proprio bella eh Veramente bella di gara Dai 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 Oh Regà non l'ho mai E' fatto un wall ride con un cambio di direzione con le moto eh Però è andato tutto bene Ok Giù Sì Oddio Oddio C'era No 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 Oddio forse ci salviamo eh Sì Andiamo 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 Belli veloci Ok Adesso Adesso bisogna scendere giù Le frecce indicano così Ok Adesso c'è l'equilibrio Che si muove No 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 Siamo ancora vivi Gira 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 Ci mette 50 anni a girare il DF 400 eh Ok Dai 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 che voglio andare Veloce Veloce dai 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 No Sono rimasto trollato Allora andiamo tranquilli dai Intanto non succede niente Sali Ok Dobbiamo andare qua nel momento giusto eh Vai 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 adesso 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 Ok Adesso bisogna andare di là Perfetto così Guardate che spettacolo Questa cara è un misto tra pezzi antichi E pezzi E pezzi nuovi Però è favolosa eh I cerchietti non mancano mai Ok Speriamo che non mi trollano eh Perfetto così No Avevo detto speriamo che non mi trollano E invece mi hanno trollato Dai 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 Ok Adesso per di là Dai Perfetto così E adesso per di qua E ora E ora ci dice là Noi dovremmo andare Là sotto Però aspettate un attimo eh Non si può città Eh no Sei Sei prendi il check No raga facciamolo normale dai Ok Aspettate eh Ah per di qua Non è manco difficile sta parte Dai Dai scendi giù Ok No 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 scendi giù scendi giù Perfetto così raga Siamo vivi siamo vivi Non so come Ma siamo ancora vivi Adesso c'è da fare un blight Eh si Neanche tanto blight Perfetto Ora Bisogna andare per di qua Vai 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 Bello veloce Facciamola così la strada raga Senza mai lasciare l'acceleratore Ci provo Ok E qua Qua raga Mi sa che ci vuole il trick Tipo hipster slide eh Non lo so Proviamoci Quale rampa Proviamo Proviamo questa alta Ok No Ci dobbiamo riprovare Dai che ce la voglio fare Raga Si Ce l'abbiamo fatta Raga Perfetto Allora Andiamo per di qua Oh Che spettacolo L'ultima volta che l'ho fatta Una gara del genere Era tipo Presa a fuoco una moto Che era quella La Shotaro era Ok Dove Siamo Finiti Abbiamo vinto così Non l'ho mai visto sto glitch Raga Che passa attraverso la rampa Comunque si A prossima gara Ok Nuova gara Questa diciamo che è una gara antica Però è motocross Oh mio dio raga Che cosa ho scaricato Io ho letto motocross Non trial O parkour Come Come devo andare qua Ma quelli con un salto Ce l'hanno fatta Guarda lì Andiamo 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 Cosa No raga I bug No eh Ok Andiamo Come andavi No raga Devo recuperare Vai 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 Guardate quanto sono rapidi Sti suini Nel motocross Ok Vai 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 Veloce 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 Sesta posizione raga Abbiamo recuperato Piano piano possiamo recuperare Ok Dobbiamo superare questo suino Vieni qua Dove scappi Ok Quinta posizione raga E lì il quarto Andiamo Che spettacolo Ok Questa è tipo la gara rockstar che esiste Però è diversa Ok stanno tutti qua eh Facciamo attenzione a non trollarci Oh le basta visuale Dove 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 Guarda sta visuale Mi ha trollato Di qua di qua di qua Ok Dai il podio raga Il podio almeno Dobbiamo recuperare Il podio Ok Dai basta sta visuale Stunt Andiamo Meno male che ho messo due giri eh Ok Bella competitiva questa gara eh Via 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 No 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 Ero terzo per un attimo Mi sono trollato Ok Bisogna stare Belli Precisi qua Quarta posizione Il primo raga Mi sa che se n'è andato Proprio Terza posizione No 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 raga Aspettate Non lo so Oh 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 Ma proprio qua dovevo passare io Andiamo sui Andiamo Guardate Io ve lo farei prima passando di là Invece Ho peggiorato la situazione Ok Vai 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 Io taglio per di qua Dove è il check Sta qui Perfetto Terza posizione Dove stanno i primi Mi sa che stanno proprio qua eh Eeeh No 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 Ok ok raga Dobbiamo recuperare che stanno là eh Ce la possiamo fare Ok Vai 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 Bello veloce Era da tanto che non facevo il motocross A parte che c'è solo questa di pista eh Ok Dai che le recuperiamo Le dobbiamo recuperare assolutamente Impegniamo qua Ok Qua bisogna frenare abbondantemente eh A parte che frena tantissimo la Sanchez Ok Il podio Ce l'abbiamo eh Il secondo giro Non mi chiedete quando inizia Che non lo so Sui dove devo andare Di qua Eeeh Ma guardati Ma è un trollo sta cara Raga Non ci so Capignetti Spero che si siano trollati tutti eh Ah allora erano partiti dalla rampetta Ecco perché Ok Ok Salta tutto Perfetto così Terza posizione I primi raga Non so dove stanno Credo che sia il secondo Questo Sì Ok No Perché ve so trollato Via 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 Che tanto che stanno A trollare tutti Perfetto così Andiamo Il primo Dove sta Dove si trova Dove è andata a finire Ok Vai 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 Veloce Veloveloce Sui Corrono eh Corrono veramente tanto Sti suini Mangia loro Ok Vai 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 Eccolo qua al secondo Lo superiamo così No Soi Non mi butta fuori Allargato Ok Leviamo sta visuale E questa volta non me frega Questa volta non me frega Dobbiamo girare all'istante Ok Eh il primo raga Se n'è andato via Complimenti al primo Dopo vediamo chi è Ok No no Qua raga ci giochiamo il podio eh E' lui No non lo so Veloce 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 Oh grazie sui Ma hai fatto tagliare metà pista Non so cosa è successo No il podio Il podio del suino Tanto verrò trollato all'ultimo Perché non so mai dove bisogna andare all'ultimo Dai 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 Che siamo andati belli veloci qua Ok Dai Corri 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 Perfetto così Ci infiliamo di qua Wow Siamo entrati velocissimi stavolta Ok Guardati Andiamo Vai 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 Seconda posizione Sì In momenti stavo per morire Il primo è laggiù E' veramente lontano Ok Andiamo Andiamo Abbiamo seminato Quelli che ci stavano dietro eh Per ora Per ora E' così Facciamo attenzione Devo solo capire quella parte Che non ho capito Poi il traguardo L'aceto Che non ho capito eh Ok Ok Verdi qua Sto andando un po' lento Perché Non so dove bisogna andare Ah Per di qua Per di qua No no Si è fermato Suì E' tua E' tua Concludi 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 Suì Io sono arrivato secondo Vai Suì Vai 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 Grandissimo Ci andiamo a prendere Questa bella Seconda posizione Se vi sono piaciute Queste gare Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Scrivetevi su Instagram Salute tutti Questi sui Buongiorno Scrivetevi al canale Grazie a tutti